Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, come vedete sono nuovamente qua su Minecraft e oggi sono insieme a Mike Shosha Ciao ragazzi Jacco Rollo Ciao a tutti E a Nova Uè ciao Come vedete dietro alle mie spalle la casa che vi avevo fatto vedere nel video precedente ragazzi si è ampliata di parecchio perché è esattamente un paio di giorni che siamo dietro qua a sistemare un po' la casa, a fare un po' tutto quanto bene se volete mi avvicino ragazzi e vi faccio vedere eccoci qua guardate un po' il nostro castello mega galattico come vedete questo video qui ragazzi lo sto aspettando da venerdì, non so sinceramente quando vedrete questo video ma è più sicuramente da una settimana che aspettavo questo momento perché non ho potuto esplorare ragazzi le caverne che abbiamo sotto di noi le caverne lì, le miniere di Moria perché dovevo farlo insieme a voi come vedete qua abbiamo le nostre belle trappole e il castello è gigantesco sopra abbiamo anche la vasca da bagno ci costruiremo la vasca da bagno la jacuzzi la jacuzzi ci deve essere assolutamente faremo feste con blackjack e squille di lusso prima di tutto ragazzi mi sono dimenticato gli obiettivi allora gli obiettivi costruire la casa quindi l'abbiamo fatta però chiaramente la amplieremo sempre di più oggi dovremo costruire la serra l'allevamento e non so se riusciamo ad esplorare anche la miniera ragazzi per oggi costruire la serra, l'allevamento e assolutamente togliere questi polli che abbiamo fatto una cosa assurda li abbiamo messi sotto casa ma si sentono sempre i polli veramente stiamo diventando matti allevamenti clandestini ci sono allevamenti clandestini di polli fatemi scendere facciamo intanto prendono fuoco fatemi scendere guardate polli che abbiamo qua sotto e le pollastre che metteremo in piscina richard benson richard benson sì vabbè ciao richard benson è invidioso di noi ma cosa direi in questo caso voglio sapere chi è il genio che ha costruito il pollaio sotto sotto casa tutto il giorno coi polli mamma mia davvero diciamo che il sadico è nova era partito tutto tipo da un pollo era partito poi sì esatto c'era un pollo c'era verso la mano un pollo in un cubo allora io direi che lì c'è la nostra mucca che fallate nel recinto il pollaio e poi tutto il resto dove lo costruiamo? a sinistra? io lo farei qua a destra a destra c'è tipo uno spazio ragazzi a destra è insaltabile sta cosa eh no ah no ecco c'è la porta guardate che belle le chiappone con questa skin con questa skin nuova proprio imbattibile eh le chiappone non le batte nessuno no assolutamente un gundam contro una chiappa qui ci sarà il nostro pollaio allora si fa notte e io direi ragazzi perché dall'ultimo video avevo una una texture o una skin come a cavolo si dice ragazzi sono ancora inesperto una texture inadatta quindi direi di saltare le zone notturne ragazzi adesso noi andiamo a letto eccolo qua e ci svegliamo quando è giorno così non ci sono problemi la texture io l'ho cambiata quindi non ci dovrebbero essere problemi però a scaso di equivoci io evito qua ci sono i nostri bei letti quei nomi guardate qua ragazzi vieni Mike quanto siamo quanto siamo amici dormiamo tutti nel mega lettone tutti che dormono nello stesso però Mike non allungare la mano no 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 ragazzi occhio con i peti occhio con i peti ora ma che mangiamo non mangiamo ieri guardate quanto siamo un po' professionali minerali qua che c'è blocchi anzi io vado su al piano di sopra così faccio vedere un po' i nostri possedimenti e tutta la nostra isola il buon Bistab ci spiega un po' tutto perché io da bravo assenteista durante le costruzioni sì Mike nella prima puntata non c'era io ho visto un acquirente capito io vengo qua tutto bello fatto e dico ok questa sarà la mia casa qui ci sarà la jacuzzi da qualche parte la metteremo oppure magari amplieremo un po' adesso non lo so bene laggiù c'è la nostra isola allora Mike ti faccio vedere laggiù a sinistra dove c'è quella cosa di terra se la vedi sì là dentro c'è la nostra piscina termale privata ah peccato che sulla spiaggia ne abbiamo due in un mondo dove siamo quattro uomini soli beh infatti e non so se avete mai visto il film è una donna è una donna è una donna ah è vero ho paura di essere stuprato ha cambiato senso ho paura tu sei una scimella sei un qui abbiamo pieno di funghetti lì abbiamo la piscina naturale laggiù abbiamo la sauna tutta la spiaggia è una cosa fighissima laggiù abbiamo l'ingresso delle grotte oh Mike che vive sopra a un albero e ride perché questo maiale ride è vero è sopra l'albero cosa cavolo fa sopra l'albero poi gli tiro gli tiro le fuoco abbiamo i maiali volanti è sceso adesso me lo va però c'è la gente che prende fuoco anche guarda che ride sto maiale maiale in fatti prende fuoco via ok quindi facciamo la serra oppure l'allevamento qui serra io sto io sto io sto polaio io direi di togliere subito i polli c'è un uomo che prende fuoco qua che c'è il naso perché in teoria dobbiamo fare prima il grano con la serra e poi con il grano facciamo tiriamo tipo le mucche caulate varie vai allora facciamo prima il grano vai togliamo tutta la erbaccia tenate un po' qua sto piano qua qui c'è la zappa vai vado giù anche io in spiaggia ma è in spiaggia ma è in spiaggia qui sta in spiaggia buono allora distruggiamo il muro questo che vedi sulla destra oppure perché eliminare un'isola la vedo un po' troppo ma no lascialo uno due qua no qua che qui c'è la nostra salda privata oh caspina ah lì sotto lì sotto c'è la sauna questa è la sauna qua sopra guarda ce la faccio vedere cavolo che sta entrando l'acqua il nemico principale guarda che roba questa è la nostra sauna privata è la sauna ragazzi vedete che bella vero che bella mamma mia peccato che ripeto siamo tutti uomini 4 uomini uomini occhio occhio che qui se no no siamo tre uomini e nuova siamo due uomini siamo due uomini un maschio uno shemale e un Gundam che se no qua c'entra tutta l'acqua ci allaga tutto perché c'è la sorpresa perché è nuova perché è nuova io sono abituato a chiamare le cose con il loro vero nome o almeno come youporn insegna oh che ho trovato qui ah con le nuove texture comunque se volete c'è sabbia anche qua eh la hoi ce l'abbiamo la zappa no eh vai togliamo tutto con quella fatica io non so se abbiamo fatto bene a togliere qui tutta la sabbia forse è meglio toglivi di là perché sennò qui non abbiamo più la spiaggia privata eh esatto abbiamo la spiaggia tutta hobbit vabbè però se la pareggi va bene vabbè se la pareggi se viene una marea siamo fregati ah ah si allora se facciamo così e viene free willy è la fine allora ti ho preso no 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 che faccio 1 2 3 aspita vai eccoci qui di nuovo con la pala nuova ma dove siete ah state qui ah ok ah no va dove sei c'è problema ho scavato un buco e e mettetevi dentro vedo un altro buco sotto si perché noi voglio esplorare queste caverne le miniere di moria che noi noi abbiamo abbiamo costruito una casa sotto il nulla sotto un cimitero indiano ma sotto il nulla è vero ragazzi mi sono dimenticato praticamente sotto c'è una grotta esatto noi io avevo più che altro e metti la posse l'idea di costruire ah l'avevo buttata qui davanti ok Mike non so se tu lo sapevi ma qui mi era venuta l'idea di costruire un fossato immenso però andando scavando sottoterra sottoterra ma che fai abbiamo trovato che c'è una caverna immensa dentro siamo sospesi nel vuoto e qui si può vedere l'entrata sospesi nel vuoto c'è un blocco di terra che tiene in cima tutta la nostra casa e poi c'è un precipizio di 8000 metri devi portali in casa Mike ah in casa cadendo si si metili sulla fornace qua c'è diventati poi il sabbio diventano diventa vetro vorremmo fare un'altra fornace vai una stradina qua se no e adesso riesco a selce fa una nabbo fa una nabbo aspetta io c'ho un secchio d'acqua lo prendo va no ma spero non è la se vuoi io ho terra eh ti serve vedere la nuova la carbonella che cacchio è il carbone vai la cassa mi pare ah ce l'ho preso tutto io aspetta aspetta ti do questa qui mettiamo l'altra mettiamo anche l'altra sabbia ah sai stai ne ok vai vai stiamo cucinando qualsiasi cosa ok quindi la sabbia serviva il vedo esatto serve per caso anche della pietra lavorata eh la facciamo più avanti la facciamo più avanti quando prendiamo un po' di carbone dalle miniere ah le torce servo cavolo ce l'ho io guarda ma quindi adesso un po' di torce dentro se no ma quindi adesso noi andiamo a esplorare no dobbiamo fare la serra e no facciamo la serra poi spostiamo i polli dentro casa nostra che non ne posso più tanto che si fa imbrunire guardate il sole come scompare lì davanti quindi adesso vuol dire arriveranno tipo noi mostri arriverà proprio l'apocalisse ah si ma non ti abbiamo detto che questa modalità è un po' strana no che non è facile abbiamo messo abbiamo voluto farla tipo difficile in modo di rita no 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 ragazzi forse forse non vanno informato che io sono pro eh ovvero tipo gli zombie si spaccano le porte questo è il punto ah gli zombie che sbattano entrano in casa proprio gli zombie però se non mettiamo delle torce qui dentro spavano molte è tipo una patata dov'era vieta eh non ce l'ho io sento troppo i rumori strani sento un rumore lì sono anch'io di là in fondo l'hai che ci sono anche i draghi qua dentro c'è un dragon si interessa ah porcaracca scheletro mi servono più torce qua arrivo non riesce a farle dove stanno attaccando dietro qui proprio alla nostra serra una qua e anche qua sotto guarda qui quella foresta incantata tutta guia eh quella foresta lì è un casino perché i mostri spawnano tantissimo aspetta eh la mettiamo qua e poi abbiamo fatto anche la serra no manca il vetro sopra è vero tutto il vetro sopra e lì sono razzi oh guarda qui ancora tutta erbaccia perfetto quantissimi ho preso ne ho 11 per ora non ne ho tantissimi ma vanno sotto tipo 40 i semi 27 erano 7 vabbè poi con il prossimo raccolto raccogliamo tutte e ne avremo ancora di più in teoria ma si tanto possiamo anche prendere quest'arma qua tanto ok ora mettiamo solo tutto il vetro sopra abbiamo guarda erba che c'è stanno andando tutte le fornace di casa nostra normale ma stai occhio vogliamo bene qui la zona è ma diventa un campo da golf guarda facciamo le buche le buche ci sono guarda questa qua se voglio esplorare andiamo adesso il primo obiettivo è quasi finito allora andiamo a dormire cosa meno è notte mettiamo giù tutti i semi ah le ho finiti però sta già crescendo guarda anzi io farei una cosa abbiamo la polvere guarda lì c'è uno scheletro prendiamo le sue ossa lì due clipper se io ho un osso andiamo allora a dormire aspetta uso già la polvere d'ossa non c'è più l'avete usata ok prendo la polizia arrivo dalla cassa arrivo da letto arrivo arrivo vai ammucchiata vai tu ti ha letto così hot all in the box no 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 che è successo tanti bolli tanti bolli adesso vado giù li ammazzo a tutti no no aspetta aspetta ancora prima di adesso come che li tiremo fuori da lì ci metteremo qualcosa e attireremo una trappola io sono senza veramente cibo dobbiamo assolutamente che vi serve io c'ho 6 bistecche mi sono preso 6 bolli oh creeper creeper aiuto ci sono fatto le scogger aiuto c'è una creeper eccolo qua appena detto boom aia un creeper asterista no ho sbagliato ma dove qua vicino a me mettiamo carbonella e qua mettiamo due polli però quella mucca lì avete preso cioè è cresciuto una cosa di fieno eh non ancora ma la polvere d'osso che c'è là il blocco quale la polvere d'osso polvere d'osso no abbiamo preso solo le ossa eh allora ecco le ossa mettile sulla crafting eh sono dentro ah li ho preso io è vero 3 ma che così prendiamo quella mucca 1 guarda sta mucca come c'è c'è sta bruttina ah la farina d'osso lascia per dell'amico mio levati eh devo ancora imparare un po' tutte queste cose famo vinto con la farina d'osso dov'è che devo andare? guardala guardala come mi ingono usalo sulla sculetra guarda lo scolacciando sulla piantagione ah sulla piantagione sul granosso guardate questo scheletro che non dovrebbe essere qui non è notte torna a casa tua questi scheletri d'oggi vai sullo stesso vai due ossa ancora? ok è cresciuto basta basta pelle 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 ossa abbiamo il grano per prendere la la mucca il grano dov'è il grano? dov'è? angelo aspettate che mi impianto anche tutti sti semi visto che ce li ho ah ce l'ho anch'io come si fa? ehm lo pianti dove sul terreno ah così lo pianto perfetto mamma mia ragazzi e la mucca dove la mettiamo? il primo semi dobbiamo farsi un boh dobbiamo fare un posto per le mucche eh no c'è il recito per adesso mettila insieme all'altra mamma mia ragazzi vabbè facciamo le mucche da una parte e il cibo dall'altra vai vicino alla mucca e la tiri vedi? non tagliela però vieni vieni la tiri vabbè ragazzi io c'ho io c'ho un fascino dai vieni seguimi faccio proprio sangue ma mi frega un cazzo no mi sto andando ah vieni mucca ah ragazzi ehi mucca allora o usiamo le maniere buone o le creative eh come vai? è sparita ma ragazzi ma perché sta mucca c'ha c'ha una particolare avete il crano avete il crano in mano sì dimostrarlo ok e dimostrarlo all'altra mucca io c'ho tipo un fucile in mano non so che c'è io la sto spingendo ragazzi pensiamola vai ragazzi io c'ho c'ho tipo una bistecca in mano ma gli faccio vedere il suo futuro se non ci segui vieni vieni questo è il tuo futuro guarda cosa faccio guarda cosa faccio con quelli come te oh oh dai andiamo la sto spingendo oh dai che ce la fa no 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 gli andavo a vomitare muoviti allora non ho un'idea ragazzi faremo così prova tipo a mostrare tipo andare indietro camminando all'indietro prova no prova a toglierla e rimettere le mani ecco stanno stanno stando vai 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 piano piano ragazzi quattro uomini indietro di una mucca non ho mai visto sta cosa no dove va con calma non di qui di lì no aspetta vedi dove va vieni qua vieni qua vieni qua c'ho io il grano c'ho io il grano c'hai soldi lui vai da lui fa la grana prova a toglierla a rimetterla a vista che forse si attira oh là ma vedete lui guarda sempre verso me ecco 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 tieni la tieni la tieni la vai 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 spaccatesse in casa dal recinto oh aspetta spacciamo il recinto si spaccate tanto rumore di nemici posso sì ci posso buttala dentro spingete 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 no ma oh che oh chiudi 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 non ce l'ho non ce l'ho oh è bello no ma salta su salta su salta su no 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 oh ok ti do il grano sto sudando si si accoppia dai vai ti ne hai anche all'altro beh che è sta storia se li vengono si accoppiano si fanno tipo poi devi mettere la censura perché sono ah beh ok abbiamo finito la serra fatto obiettivo completato diciamo ho preso ancora quattro pezzi mettili qua che mancano due due pezzi di sto arrivando lascia bistard e metti questi due pezzi e finiscilo ragazzi ma l'erbone vai fallo te prendi il vetro piazzalo tipo qua giù in fondo aspetta abbiamo finito sto serra così almeno il vetro se lo prende lui poi lui taglia e fa vedere che ha finito lui aspetta dove dove fa qua sopra qua sopra qua sopra ok ragazzi metto l'ultimo pezzo di vetro e anche la serra e l'obiettivo è completato tutto il sudore della mia fronte dei miei polpastrelli sul mouse è stato veloce ha mangiato fino adesso fino adesso ragazzi non ho fatto niente però discutevamo sul fatto di poter piantare magari qualche pianta un po' più interessante no? sì in teoria c'è avanti una patata però scomparsa il primo giorno no ma non sono quattro uomini quattro uomini una patata è peggio dell'anello di smigol oh spostiamo sti polli adesso eh però andiamo a scavare fuori ok facciamo il recinto volete il primo recinto sì meglio facciamolo qua faccio le canis vabbè puliamo qua un po' ma io sento rumore di cosa vogliamo fare di pietra eh sì devo soffrire sì pietra pietra vieni qua guarda cosa ti regalo oh grazie di legno grazie diago ma insomma quello con le silenzio in legno ce l'abbiamo tutta a casa non sono io oggi eh ma io hanno i robot hanno i robot i Gundam ah ok un vero Gundam allora sì io devi fare tipo tutta stazionata guarda tanto so bello ragazzi guarda come le mucche intanto non scappano sì anche non è che volano via vabbè li chiudiamo facciamo tipo la cella ma poverine guarda che maltrattamento sugli animali eh poi fai dei toni tutti per dormire insieme vado ancora a piantare un po' io qua di semi intanto le mucche le poi li stanno cagando a volontà no friends ca de vomiti semi oh occhio che c'è ah no è Mike ok lo so chi è brutto però non ne ho mostro sentivo un rumore di qualcuno non so il rumore dei nemici eh mi stai facendo le le stazionate eh no perfetto sì sì faccio le stazionate faccio il cancello e chi è che la pala eh Mike dovete scavare io le pala l'unica pala ce l'ho io perché no io la pala ce l'ho ce l'ho ce l'ho dove siete? e qui da dalla mucche e dalle due mucche ok come scavo? scavo un quadrato uno solo? se riesci sì sì anche grande verso sinistra di qua di qua destra vai alto piazzo metto tu puz si muore copi vai anche di qua perfetto se mi serve uno due tre quattro sì perché il legno lo pari? perché sì dai basta 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 un'altra ma dietro eh no no ho giusto un quadrato così in teoria uno due tre quattro cinque io vorrei fare una piantagione di fiori metti metti a terra qui sì la cana metto io metto io metto io ok perfetto però era mica forse farlo di like un po' di torce no le torce ci sono già aspetta aspetta do alzarlo questi polli malefici volano via scappano via questo è la meglio farlo a sinistra a destra l'entrata le mucche di qua secondo me sì sì adesso oh di qua all'entrata vai no ha scappata la mucca ma no una mucca in fuga che palle mucche del cacchio allora tu vai di là un due tre no ma dai è fatto scappare tutte le mucche c'era il cancello rotto dovuto rimetterlo allora come mi vuole mi desidera vai mucca vai dentro vai dentro è un pollo in acqua oh una l'ho buttata dentro chiudi 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 eh no sei tu l'altra stazionata ok ora dobbiamo portare i polli oh che palle oh si dai no vai dentro vai dentro aspetta prima pensiamo a ste due mucche che almeno ci fanno il latte ci buttano un po' di roba eccola 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 che sta andando dentro dai dai il nemico di minecraft sono le mucche no cavolo adesso dai 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 spingi adesso spingi adesso vai 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 dentro chiudi 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 oh perfetto sono chiuso anche mezzo con le mucche ok ok abbiamo fatto anche sembra un campo di concentramento no vai e qui in mezzo cosa c'è dove qui in mezzo ah non chiudi in mezzo non si chiude dove no qua no perché c'è ah ma mette i polli ah qui ah qui faccia tipo la stradina poi casomai per farlo bello adesso i polli sono sono cazzi avete segni ora c'è la parte più difficile allora siete pronti al delirio siete pronti faccia il delirio appena apro aspettate che arrivo anch'io faccia il delirio siete pronti 3 3 2 1 vai vai è delirio vai aspetta dei polli ma no facciamo una strada che esce di qua è vero anche giusto vai vai rompi sotto qua ok ragazzi dobbiamo trasferire i polli dai vai andiamo dritti e per farlo dobbiamo distruggere la casa vabbè io non ho la pala uso il piccone è uguale perché giustamente siamo noi vai nuova siamo già fuori ok no ma così come li fai a mettere dentro al coso inizio ci vuoi a 20 i semi a 20 i semi per ah allora tirali fuori dalla mano e fatti seguire venite polli io sono tipo il quello là guarda quanti polli che ti seguono siamo pieni di polli venite venite polli capito la notte sono timidi un po cioè non si dormiva la notte con tutti sti polli dai pollastre davvero venite pollastrelle perché quelli non vengono dove dico io venite dove dico io amatemi siamo siamo guarda polli guarda polli quanti sono sono tantissimi guardate come non vengono ma perché non abbiamo messo l'apertura da quest'altra parte ok guardate quanti polli guardate ragazzi sono il signore dei polli venite polli miei è fantastico cucineremo tutti non si salverà nessuno aprite ci sono polli che vagano dappertutto amatemi può portarne due ed altri facciano stragi proprio pura strage non entrano venite polli io sono il vostro signore venite vi faccio vedere anch'io come diventano col polli in mano sono simbolo ma cotto ho il polletto piccolo è questo solo un avvertimento ma no Mike me l'hai spostato dovrebbe mettere un po' più di torce spingi 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 no oddio un morto vivente dove hai detto è stupido vai entra dentro quello di merda oh mio dio devo spaccare tutto il corpo sennò quanto sei brutto vai entra entra uno dentro uno dentro uno dentro vai secondo me dovete distruggere e poi ricostruirlo ehi come scappano ma no dai polli spingi 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 ma non c'è neanche un pollo dentro vai dentro ecco ecco questo mi inseguo oh ecco ecco prendi assassinate chiudi no prendi assassinate chiudi dentro è assassinata dentro vai vai chiudi che due polli allora adesso inizio a fare la strage va e lo distruggi dentro dai dai ecco questi entrano vedi no guarda che questo esce stanno da soli perché si appolli oh venite qua dentro voi riuscite eh vabbè ma sono i molestratori ok due stanno dentro ok quindi adesso direi di fare un po' di strage oh no ok basta gli altri dai subito il grano così sono moltiplicati ne teniamo due eh intanto gli diamo il grano sì poi li facciamo e adesso parte la caccia al pollo ragazzi proprio chiamate tutti i vostri amici animalisti ma purtroppo è così minchia su tutta l'isola sono andati pollo che cosa la pollica esploda no pollica mi cazzo disperati polli con la carrupa chi è che sono sono tutti scappati venite a vedere dove sono gli altri polli dove sei Jaco fa vedere tutti giù no vabbè ma chi è che ha lasciato la porta aperta che falle no sarebbe bello tipo una molotov adesso la lava la lava no aspetta adesso ahhh e ci diamo lo scioglio via 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 e quindi abbiamo completato anche il secondo obiettivo secondo obiettivo fatto allora quindi ci manca ci manca ci manca ci manca fammi vedere ci sono allora costruire la serra fatto l'allevamento fatto esplorare la miniera quello magari a farlo lo faremo lo faremo domani nel prossimo episodio nelle prossime puntate ok io non c'ho poi intanto cuciniamo i polli quindi ragazzi il video si conclude qua come vi ho detto prima nel prossimo episodio andremo ad esplorare le miniere di Moria io vi ricordo di lasciare un bel like un commento ditemi appunto cosa ne pensate di questa serie io ringrazio Mike per essere stato qua con me grazie a te Bistard ciao a tutti ragazzi ringrazio poi anche Iaco ciao e Nova ciao ragazzi abbiamo costruito come vedete tutto quello che c'eravamo prefissati oggi magari nelle prossime puntate amplieremo tutto tutto quanto ragazzi tutti i nostri possedimenti li amplieremo quindi qua da Bistard per oggi è tutto e noi ci vediamo al prossimo video ciao